Io capisco anche la gente di Eramo che oggi è incazzata con noi, sono arrivati i truffatori, questo assolutamente non è così, stiamo lavorando tutti i giorni pronti a fare qualcosa di importante nella città, quello che avevamo detto, ci sto qua e ci voglio mettere la faccia perché non mi voglio tirare indietro da niente, però oggi quello che succede, intanto sono liberi loro, quello che succede alla nostra azienda, se saranno sbloccate perché abbiamo tutto bloccato, a me anche i conti personali dell'azienda, le quote della Teramo, quindi per quanto riguarda il 60%, quindi speriamo che questo sia il preludio, che tutto possa essere sbloccato e tornare a fare quello che c'eravamo prefissi, fare azienda, fare Teramo Calcio, e poi tutte intercettazioni che sono uscite, cose, situazioni, tutte spiegabili e manipolate a mestiere da qualcuno che interessava a fare uscire la notizia in qualche modo, questa era la cosa dove sono più dispiaciuto, però ripeto, capisco anche chi a Teramo oggi non ci conosce e ci considera gente poco per bene, però se ce ne sarà data possibilità dimostreremo esattamente il contrario di quello che siamo stati descritti. Comunque sì, la Teramo Calcio ha una sua liquidità in cassa che può essere mantenuta, quindi voglio dire, la Teramo Calcio fino a oggi, senza nessun problema, fino a gennaio, febbraio, ha soldi in cassa per pagare stipendi e tutto quanto, questo è quello che posso dire, quei ragazzi ci ho parlato subito e gli ho detto che io ci avrei messo la faccia in qualsiasi momento, in ogni situazione, che mi sarei presentato a loro qualsiasi fosse stata la condizione.